No vabbè la Roma, questa è la dimostrazione perché mi sono arrabbiato per una squadra che non ha provato a dire in porta, vedete il Geno? In maniera sporca, imprecisa, con poca qualità tecnica perché sostanzialmente non aveva creato nulla, butta una punizione in mezzo e fa go con The Winter. Noi a Torino con la Roma non abbiamo avuto questo atteggiamento, questa è la differenza, una Roma imbarazzante nella ripresa, cambi che hanno abbassato ancora di più il baricentro, ci ha capito poco, De Rossi ha fatto la protesta che ha allungato ancora di più il tempo di recupero, secondo me De Rossi non è all'altezza di questa squadra, perché una squadra ha trovato il primo gol di Dobvik, 5 minuti per problemi al VAR che sta diventando veramente noioso e pleonastico, ma una Roma che passa in vantaggio e fa anche un buon primo tempo, che nella ripresa non riesce a gestire un contropiede, una ripartenza, nei 20 minuti finali si è fatta schiacciare costantemente, da qui non si va da nessuno, cioè la Roma non va da nessuna parte. Complimenti a Genoa, alla volontà di Gilardino che come sempre è sul pezzo, va detto, è molto molto bravo a riuscire a motivare la squadra, nonostante la qualità tecnica, Ecuban, Pinamonti sono attaccanti che faranno molta fatica a trovare rete. E la rete, infortunio brutto di Salemakers, io credo che la gestione dei campi sia stata sbagliata, il Genoa ci ha creduto con i suoi mezzi, un po' improvvisando, un po' lottando, un po' combattendo, però una squadra che deve stare ai primi posti della classifica non può avere una gestione così povera sotto ogni punto di vista, quindi una Roma sempre più deludente, e questo fa pensare anche alla match della Juventus, che oggettivamente è stata poca roba. Complimenti a Genoa comunque, la Roma oggi dei rossi out, perché cambi da incubo e una gestione approssimativa provinciale. 1-1 tra Genoa a Roma, Coni De Winter, ex prodotto bianconero, cattivo. Dobbic ha fatto gol, poteva farne di più, però in crescita secondo me il ragazzo gli farà le sue realizzazioni, cioè uno che fa il capo economico della Liga non può essere uno che vada a perdere il senso del gol.